Sto modellando un bastoncino di lecca-lecca in più. Quasi fatto. Farò l'estremità rosicchiata e la rotolerò nei frammenti di vetro per ricordare dei resti di lecca-lecca. Attenti a mettere il coniglietto nel forno. Va bene. Attenti alle orecchie. Se si staccassero... Non voglio pensarci. Ci siamo! Nel forno! Vai, ti apro lo sportello. Oh, guarda. Perfetto. Sì! Povera la birra che mi scolerò. Già.